Sono Ghilir Romeo, RSU ex lavoratori Alcoa, faccio parte del sindacato della CISL dal 1997, per dieci anni ho fatto delegato della ditta degli appalti società Copocames, dal 2010 sono stato assunto in Alcoa, sono da quasi cinque anni, due anni da lavoratore, due anni di castigazione, quasi un anno in mobilità delegato della Coa, credo in questa segreteria, credo in questo stemma CISL perché in questi ultimi anni abbiamo dato un grande sacrificio di lavoro, di movimento e abbiamo dimostrato che siamo un sindacato serio, diciamo. Sono stato iscritto subito al sindacato della CISL perché credo in questa segreteria, credo in questo stemma, credo nel lavoro che si sta facendo e credo che si sta lavorando. Oggi possiamo dire che siamo un sindacato giovane, un sindacato che si sta sempre più affacciando e la gente ci crede, l'onestà paga e questo è il grande risultato. Com'è la situazione in Alcoa adesso? In Alcoa la situazione siamo da due anni di castigazione alla mobilità, abbiamo un presidio vicino allo stabilimento, facciamo i turni, siamo sette squadre che girano, facciamo i turni alle 24 ore, lasciamo la famiglia, io sono sposato, ho una bambina anche di due anni, facciamo i sacrifici perché ci crediamo. È difficile per te conciliare l'attività sindacale con quella della tua famiglia? No, la mia famiglia capisce che è una cosa che prima di tutto mi piace, la CISL mi ha fatto crescere anche come persona, come uomo e mi ha dato tanto e cercherò di ripagarla in tutto possibile. Il lavoro sindacale non mi toglie il tempo, anzi mi dà la forza di andare avanti perché grazie anche a questo essere iscritto alla CISL mi dà la forza di continuare a combattere e do tutta la stima di questa segreteria, la faccio valere anche gli iscritti, i colleghi che passano le sere come il presidio e che combattiamo su questa lotta.